A Chieri una partita difficile, nessuna ragazza è andata in doppia cifra, pochi punti muro. Questa sera è un'altra partita, anche il muro ha funzionato con qualche monster block, un paio di ace, l'attacco un po' più fluido, anche un po' rispetto a Chieri siete riusciti, è una partita completamente diversa, un avversario completamente diverso, però siete riusciti un po' a ritornare su standard più consueti. Sì, sono stati bravi a risultare questa partita di Chieri, che è stata comunque una bellissima prestazione, le prime giocatrici a saperlo, però un po' il fatto che Chieri fa parte in questo momento di un'altra caratura in questo campionato, e noi siamo in questo gruppone che va dalla sesta all'ultima posizione, perché i risultati settimana per settimana, questo dicono, e quindi è ancora più importante risultare partita dopo partita, forse anche set per set. Se guardiamo la scorsa settimana, Gisonte ha perso un set a 11 in casa con Casal Maggiore, dopo aver fatto i risultati fantastici, oggi Casal Maggiore ha visto che soffriva combusti in casa, quindi ogni partita è veramente una storia, sia un campionato che non si vedeva da un po' di anni, ci sono da due, ma ci seguivo anche da sotto, è molto bello per il pubblico, sia anche molto divertente vedere un campionato così equiparato.